Ultima di andata, per la prima volta il Lavagna non vince, comunque non perde, chiude la prima fase della stagione regolare imbattuto, ma non più a punteggio piede. Il Rapallo gioca una buona partita con la Fiorentina, ma alla fine si deve inchinare 10-8 per i Toscani. La Crociera batte la Mameli 7-5, l'ennesimo pareggio dell'Arenzano che ha fatto il record di pareggi, quest'anno 6 pareggi su 9 partite se non sbaglio. Arenzano-Sturla è finita 7-7, Lavagna-Lerici 8-8 e poi l'Andrea Doria, seconda in classifica e spugnato Prato 11-7. Lavagna 25 punti su 27 in classifica, poi Andrea Doria 22, sono le due squadre in pole position per andare ai play-off. Poi Fiorentina 18, che è l'unica squadra che ancora minaccia quantomeno il secondo posto dell'Andrea Doria, poi tutte le altre squadre sono in lotta per salvarsi. L'Erici a Renzano 12, Mameli 10, Prato 8, Rapallo-Sturla in zona play-out con 7 punti, ma Rapallo un po' come il Chiaveri può risalire. Crociera 6 punti, comunque anche la Crociera è lì. Sabato prossimo, qui la B va a proseguire regolarmente, sarà la prima giornata di ritorno, poi a fine marzo la seconda di ritorno, e poi sosta solo per Pasqua, è ripresa dopo Pasqua con la terza di ritorno. Sabato prossimo si giocano Lavagna-Mameli, Rapallo-Lerici, Arenzano-Crociera, Sturla-Andrea Doria e Prato-Fiorentina. Danilo, è un campionato che mediamente, questo di Serie B, meno vedere i punteggi, c'è un pochino più di equilibrio. In tante vasche, ci sono anche tanti pareggi, Larenzano stesso nella dimostrazione, ma poi non è una squadra che ha perso soltanto a Lavagna di un gol, poi sei pareggi e due vittorie, ed è una squadra metà classifica, questo per dire che l'equilibrio mediamente nelle singole partite c'è. Però poi se guardiamo la classifica, Lavagna e Andrea Doria sono destinati a fare i play-off come l'anno scorso, sperando che l'esito sia diverso. Anche qui ci siamo messi d'accordo perché stavo pensando, il Lavagna ogni volta, l'anno scorso è stata clamorosa, si è impegnato per non salire, ma non dico che non ci fu niente di voluto, ma sprecò un rigore con il portiere dall'altra parte, la palla già quasi dentro, la buttò fuori. Ancora adesso con la partita decisiva in casa non riuscì a vincere, anche qui contro una squadra del Verona che era chiaramente inferiore, però sulla partita secca evidentemente qualcosa si inceppò tra i lavagnosi. Però l'anno scorso Verona e Como comunque erano due squadre come società, infatti il Como vediamo il campionato che sta facendo, il Verona un po' meno, che sembrava volessero anche investire in vista dell'A2, dal punto di vista delle motivazioni erano avversarie tosti. No, motivate erano motivate. Quest'anno delle notizie che mi arrivano dal girone Lombardo del nord-est, non mi sembra ci siano queste gran corazzate. Però appunto io adesso ti fido perché dopo la sorpresa dell'anno scorso in cui ero sicurissimo che almeno la lavagna passasse e poi c'è stato il Verona. Ripeto, non dico che non fosse motivato anche la lavagna, il Verona lo era sicuramente, ma tecnicamente individualmente era inferiore a la lavagna. Poi ripeto, si inceppò qualcosa, speriamo che l'esperienza frutti qualcosa, abbia reso edotti Antonucci e i suoi. Il lavagna è chiaramente la squadra più forte, ha pareggiato con l'unica partita con l'erici perché è una squadra che si conoscono fin troppo bene perché si allenano spesso e volentieri anche a mercoledì assieme. C'è un po' di ruggine perché molti dell'erici sono ex schiavari, quindi per loro questo era un derby vero, veramente derby, una questione di campanile, quindi le hanno reso la vita difficile. Non cambia niente, c'è ora un giro di ritorno per prepararsi appunto a questi confronti incrociati. Invece è molto bello la zona play-out perché come hai detto tu, dall'erici che è quarto, tutti rischiano. Probabilmente le Liguri che sono quasi tutto Ligure, 8 squadre su 10, una inevitabilmente retrocederà, altre due faranno i play-out, però nei play-out di Serie B di solito il girone Ligure ha sempre un peso maggiore, di solito si salvano sempre entrambi. Anche perché arrivi a queste finali molto più preparato, giocando con squadre più forte. Anche il Rappallo Diego Casagrande ha fatto giocare a Camoglie, di fatto sempre un po' in campo neutro, però con tanti giovani, anche tanti che arrivano giusto dal Camoglie in doppio tesseramento, si sta battendo. Mi sembra che anche contro le squadre più forti il Rappallo faccia anche la sua figura. Credo che si sarà tutto nelle ultime partite, scontreranno molto però gli scontri diretti con le ultime, cioè con la crociera, non bisogna sbagliare, con la crociera, con l'ostura, quelli sono le partite da vincere. Se il Rappallo vince queste partite qua può farcela salvare i play-out. Bene, siamo arrivati in fondo anche alla puntata odierna, settimanale, con il nostro solo pallanuoto, lo speciale che dedichiamo appunto alla disciplina della water polo, una panoramica un po' su tutti i campionati più importanti a livello nazionale, anche competizioni internazionali. Io ringrazio il nostro ospito odierno Danilo Sanguinetti, Grazie a voi. Collega della Gazzetta del Lunedì Corriere Mercantile, ringrazio Leo Moller che si è occupato delle immagini filmate sui campi di gioco e della regia quest'oggi della nostra trasmissione. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Vi ricordo Levante Sport TV sul canale 695 del Digitale Terrestre, ci potete seguire anche su Facebook e su YouTube, chiaramente quindi attraverso internet. Continuate a seguirci l'appuntamento con solo pallanuoto su Levante Sport TV, rinnovato alla prossima settimana.